156 posti letto, una mensa utilizzabile anche dall'esterno, una piccola palestra, una caffetteria, lavanderia e stireria, sale multifunzionali e per le teleconferenze, una biblioteca e ampi parcheggi. Si tratta del complesso residenziale a disposizione di tutti quei ragazzi che hanno scelto e sceglieranno di studiare in Basilicata, che nascerà a Matera attraverso un bando varato dalla regione, su proposta dell'assessore alle infrastrutture, Rosa Gentile, che mira alla riconversione del secondo padiglione dell'ex ospedale civile Materano. L'avviso pubblico e il disciplinare di gara saranno pubblicati la prossima settimana sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le stanze dovranno essere presentate entro fine luglio. Il termine di consegna della struttura, infine, è fissato in circa due anni. Grazie.